Cristina insieme ad altri amici Fa parte dello staff di Blender.it Nonché moderatrice Nonché con orgoglio posso dire Che è la direttrice della Blender Magazine Italia Di cui parleremo poi in futuro Cristina è una professionista Lavora nel campo teatrale Fa tante cose molto interessanti Non mi anticipo niente Per non togliervi il gusto di farvelo raccontare da Cristina Benvenuta di nuovo a Cristina Rucci Grazie Grazie a tutti Come professionista del mio settore Che riguarda la scenografia in generale L'allestimento Voglio raccontarvi di come Blender Abbia cambiato il mio modo di operare Non solo per quanto riguarda La creazione del concept Come magari si potrebbe più facilmente immaginare Ma anche per quanto riguarda la progettazione E anche la realizzazione fisica Materiale di alcuni elementi propri della scenografia Come i fondali e le sculture Come tutti sappiamo È la creazione dell'ambiente Più o meno realistico Di uno spettacolo teatrale Sia esso di opera Di prosa O cinematografico televisivo Sono Cristina Ducci E mi occupo da sempre di scenografia In particolare in ultimo di modellazione in 3D Attraverso Blender Questa in particolare è una mia grande passione Che mi ha permesso di portare dei cambiamenti Nel mio modo di lavorare La scenografia Diciamo che le discipline che regolano la scenografia Possono essere due Una che riguarda più la creazione del concept Dei disegni, dei bozzetti E l'altra che riguarda Cioè la scenografia proprio Il mestiere dello scenografo E l'altra che riguarda la scenotecnica Cioè la realizzazione fisica, pratica, materiale Degli elementi scenografici Anche se queste due discipline Poi convergono in un unico settore C'è la professione dello scenografo Più in senso generale Che non solo si occupa di produrre disegni Di pensare al concept e i bozzetti Ma anche interviene materialmente Alla costruzione fisica, materiale Degli elementi scenografici E questo è proprio il mio mestiere In realtà è un po' di tempo Che si tenta di portare in scenografia Contributi video Che possono in qualche maniera Arricchire oppure sostituire In parte o addirittura totalmente La scenografia di più stampo tradizionale All'inizio erano solo proiezioni Poi è arrivato il videomapping Detta così si potrebbe pensare Che questa nuova tecnica Possa un po' Mettere da parte Delle maestranze Atte a costruire, dipingere O scolpire Quello che adesso viene sostituito Da schermo e proiezioni In realtà è proprio quello che è successo Ultimamente anche in relazione Anche ad altri problemi Però questo che segna un po' la fine A me sinceramente è sembrato Anche un po' un'opportunità Per avvicinare il mio lavoro Il mio ambito lavorativo Con questa mia grande passione Per il 3D E in particolare per Blender Quello che ho cominciato a fare Fin da subito Da quando ho iniziato Ad utilizzare Blender Che in realtà è relativamente da poco Perché ho iniziato ad utilizzare Blender Dal 2013-2014 E' stato quello di cercare di combinare Questo mio background sicuramente più classico Con questa nuova visione di una realtà virtuale Sono andata su dei siti di fondazioni liriche Che hanno messo a disposizione online I loro archivi storici E ho scaricato delle immagini Di bozzetti storici Di scenografie di opere liriche E con l'intento appunto Di utilizzare queste immagini Come referenze Come riferimenti Per ricostruire dei rendering E infatti ho rifatto Praticamente La ricostruzione La ricostruzione degli ambienti E degli elementi scenografici In Blender Generalmente In scala reale Tutti scala reale Ma anche per una corretta risposta All'illuminazione Come tutti sappiamo E anche le luci sono realistiche Nel senso che sono messe per illuminare la scena E possono variare di intensità Di temperatura e di tipologia I materiali anche sono realizzati in maniera realistica Perché realizzati con il metodo del PBR Del Physically Based Rendering Anche per una corretta risposta all'illuminazione Il punto di vista della telecamera È messa in modo da riprodurre il disegno del bozzetto Così come è stato concepito dal bozzettista in originale Ma anche in concomitanza Da un punto di vista di uno spettatore medio Che si trova posizionato al centro di una platea Di un'ipotetica platea Che guarda verso il palcoscenico Così come detta La regola classica Della restituzione prospettica scenografica Della scenografia L'estate scorsa mi è stata data l'opportunità Finalmente di utilizzare questa nuova tecnica Sul campo con una scenografia dipinta Perché la mia intenzione appunto era Era di utilizzare questi bozzetti storici E queste immagini fatte da me Per riportarle in teatro Sostanzialmente attraverso due possibilità O la stampa in grande formato Oppure la proiezione E appunto l'estate scorsa Mi è stata data questa possibilità Mi è stato chiesto di partecipare come scenografa Alla ideazione, progettazione e realizzazione Di un'operetta teatrale Larinda e Vanessio di Asse Per la regia di Graziano Sirci In scena al festival Villa Solomei Al teatro Cucinelli di Solomeo Naturalmente per questa occasione Ho abbandonato la ricerca di bozzetti storici Per crearne di nuovi ad hoc In accordo con le esigenze del registra E le idee del regista E le esigenze della produzione La prima cosa che ho fatto È andare a recuperare le misure del palcoscenico Per ricreare poi in Blender Un'ambientazione che potesse essere congrua Con lo spazio circostante Stavo per dire le altezze dei cantanti Ma quelle sono evidenti Grandezze naturali Per ricreare appunto in Blender Spazi che avessero gli elementi Con tutte le misure specifiche reali Si tratta di un'ambientazione stile barocca All'interno della casa del protagonista Per un totale di tre scene Tutte al chiuso In realtà ecco due delle scene Ne sono la stessa Con un cambio di luci Che poi durante lo spettacolo È avvenuto con una transazione sfumata Tra un'immagine e l'altra Creando quindi un piccolo effetto falso Di animazione Il teatro in questione è un piccolo teatro Moderno ma ricostruito su basi rinascimentali Con un palcoscenico molto corto in profondità L'impianto scenico prevedeva la divisione in due Dello spazio scenico con una parte più a ridosso del pubblico E l'altra un pochino più a fondo scena La divisione era operata attraverso questo telo che vedete Che è poi il telo effettivamente dove venivano proiettate le immagini La misura del quadro della proiezione era di 9 metri per 4,50 E occupava praticamente tutto lo spazio delle fondale Il telo utilizzato che vedete è un telo di scenografia Si chiama Tulle, Tulle Gobelin È un telo di cotone con una trama abbastanza rada Che permette di essere usato sia completamente opaco Che in trasparenza a secondo del tipo di illuminazione E infatti durante lo spettacolo è stato anche usato in trasparenza Per delle scene che avvenivano oltre esso Il palcoscenico era molto corto in profondità E il raggio di proiezione dal proiettore fino al supporto Era solamente di 3 metri La soluzione adottata è stata quella di utilizzare Non un proiettore ma due Alloggiati molto in alto, angolati Sulla prima americana Che vedete qui appena dopo l'arco di Boccascena Questi due proiettori tarati appositamente Proiettavano ognuno dei due La metà dell'immagine deputata La stessa immagine ovviamente E con grande perizia del tecnico Senza nessun sfasamento tra un'immagine e l'altra E senza che, cosa più importante Il raggio di proiezione Bagnasse gli attori in scena E quindi vi gadesse addosso l'immagine proiettata Alcuni dati tecnici Per chi può interessare alla questione I due proiettori sono due Epson Epson a 10.000 lumen Con ottiche quadrangolari Di 0,71 a 1 E il rapporto di proiezione La macchina usata per mappare È una cast della Green Hippo E il software Hippo Teaser V4 Con due uscite SDI Qualsiasi cosa questo voglia dire Queste sono Vi faccio vedere alcune immagini Dello spettacolo Durante lo spettacolo e anche delle prove L'immagine in trasparenza Con l'attore che si muove dietro Parte dello studio di notte I cantanti Qui una parte delle prove A destra il regista E il signore che vedete Che ha interpretato La mamma della protagonista Per chi magari è un pochino più avanti in età È l'attore che interpretava Una delle storiche sorelle bandiera Mauro Bronchi Mi sembrava un pochino È lui, sì E qui Passiamo alla seconda parte Della questione Perché finora abbiamo parlato No, prima di tutto Vi voglio dire questo Che vi faccio vedere anche una foto Della messa in scena Di una bohème A cura del circolo musicale Meirdonizetti di Bergamo Che a novembre scorso Hanno voluto utilizzare I render della bohème Di cui sopra i render storici Per la messa in scena Di una loro Di una loro bohème E voglio ringraziare Il presidente dell'associazione Che ci è venuto a trovare Insieme al tecnico Che poi ha utilizzato I bozzetti in questione Per la scenografia Ma abbiamo parlato finora Di proiezioni Immagini E cose bidimensionali Ma niente di effettivamente Reale Che possa venire fuori Da Blender In questo caso invece Vi voglio raccontare Di come anche qui Blender abbia cambiato E non poco Il mio modo di lavorare Riguardo un elemento espositivo Per un museo Mi è stato chiesto In ultimo Di realizzare Una copia Del cornicione Di Palazzo Farnese Di Roma Per un'esposizione Per un museo Su una mostra Di Michelangelo Perché in originale Di Michelangelo Una copia In grandezza reale Appunto Per un'esposizione Di un museo Quello che Ho fatto È stata Come prima cosa Una visualizzazione Un po' rosa Per Anche qui Per trovare Un accordo Con le esigenze Dell'architetto E della E della Committenza E anche per Individuare Gli elementi Compositivi Del pezzo Perché Doveva comunque Essere una copia In grandezza Naturale Infatti Alla fine Il pezzo Misura 140 Per 200 Di aggetto E 310 Di altezza Tutto in centimetri Tornando a Blender Ho fatto La ricostruzione Il carattere Di ricostruzione Doveva avere Un carattere Scenografico Realistico Quindi con L'utilizzo Dei Tutti i materiali E Le tecniche Che in genere Si usano Per questo tipo Di ricostruzioni In genere Per La scelta Del materiale Per Diciamo L'elemento Principale Si Ricade Sul Polistirolo Perché Per vari motivi E invece La scelta Per Realizzare Gli elementi Decorativi Può ricadere O sul Polistirolo Stesso Con La scultura Degli elementi Un pochino Più Più Semplici Come forme O Se più Organiche Attraverso La modellazione Con la creta E Successivo Realizzazione Di stampo O in gomma Siliconica O In gesso O E poi La realizzazione Del positivo In In Resina Poliestere Possidica Poliuretanica O Altri Tra Innumerevoli Materiali Adesso In Commercio Come Prima Cosa Con Blender Ho Individuato La Forma Appunto Dell'elemento E Delle Cornici Che Dovevo Andare A Tagliare Con Il Polistirolo Attraverso Il Taglio Guidato Da Un File Vettoriale Quindi Quello Che Ho Fatto Praticamente Il Profilo Una Sezione Dell'elemento Che Mi Interessava Appunto Eseguire Con Il Taglio E Alcuni Passaggi In Edit Mode Ho Eseguito La Wrap From View E Dall'editor Dell'immagine Ho Scelto Export UV Layout Per Poi Salvare Il File Con L'estensione SVG Per Ottenere Il File Vettoriale Non È Finita Qui Perché Il File Vettoriale L'ho Passato Poi Su Inkscape Per Tarare Le Giuste Misure E Ottenere Il File Vettoriale Per Il Taglio Della Macchina Del Polistirolo Esistono Vari Tipi Di Macchine Per Il Taglio Del Polistirolo Quella Che Ho Utilizzato È Una Macchina Che Taglia Attraverso Un Solo Asse Con Un Filo Di Attraverso Un Filo Di Tungsteno Riscaldato Adeguatamente E Appunto Il Percorso Del Taglio Viene Guidato Dal Software Attaccato Alla Macchina Che Legge Il File Vettoriale Qui Vediamo Alcuni Pezzi Alcuni Elementi Acquisiti Già Un Pochino Lavorati Per Quanto Riguarda Invece Alcuni Elementi Decorativi Sono Passata A Metodi Un Pochino Più Tradizionali E Questi Elementi Sono Il Giglio La Menzola Della Cornice Con Il Ricciolo E La Cornice Con Gli Ovoli Per Quanto Riguarda Il Giglio Anche Qui Ho Usato Un File Vettoriale Di Qui Sopra Quindi Ho Tenuto Una Sagoma Del Giglio In Polistirolo Che Poi È Stata Rifinita In Scultura Così Anche Per La Menzola Con Con Il Ricciolo Varie Sezioni Del Pezzo Adeguatamente Scolpiti E Poi Assemblati Insieme Per Quanto Riguarda La Cornice Con Ovoli Qui Il Procedimento È Totalmente Artigianale È Stato Fatta La Modellazione Con La Creta Di Un Modulo Di Ovolo Per Poi Eseguire Un Calco In Gesso Del Modulo Da Questo Modulo Sono Stati Riprodotti Sempre In Creta Tutti Gli Elementi Tanti Quanti Necessari A Formare Tutta La Lunghezza Della Cornice Circa 140 Centimetri Assemblata La Cornice È Stato Fatto Poi Un Calco Di Gesso A Perdere Soprattutto I Moduli In Creta A Perdere Perché Poi Il Positivo È Stato Fatto Anche Questo In Gesso Per Cui È Stata Necessaria La Distruzione Del Calco Per Far Apparire Il Pezzo Il Positivo Che Ci Necessitava Altri Elementi Decorativi Invece Ho Scelto Qui Una Tecnica Per Me Completamente Sconosciuta Fino Ad 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 Cioè Ho Deciso Di Utilizzare Blender Fino Alla Fine Per Cui Ho Deciso Di Scolpire Questi Elementi In Blender E Di Utilizzare La Stampa 3D Questi Elementi Sono La Rosa Del Cassettone Naggetto Il Giglio Diciamo Con Le Foglie D' Canto E La Testa Di Leone Velocemente Quindi Con Blender O Per Quanto Riguarda La Rosa Ho Scelto Le Le Forme Delle Due Foglie Principali Che Poi Ho Ripetuto Con Un Sistema Di Rai E Un Empty Come Fulcro Rotato Di Tot Gradi E Poi Ho Composto La Rosa Molto Veramente Molto Semplicemente Per Quanto Riguarda Il Giglio Con Le Foglie Ad Accanto Ho Modellato La Foglia Bidimensionalmente Attraverso Una Mesh Adatta Ad Un Alto Numero Di Suddivisioni Ho Piegato Questa Mesh Attraverso Una Curva Bezier Con Modificatori Vari Ho Composto La Forma Principale Solidificandola Poi Adeguatamente E Ho Rifinito Il Tutto Con Lo Sculpt In Multi Resolution Ho Poi Specchiato L'Elemento Perché Appunto Doveva Essere Simmetrico Per La Testa Di Leone Ho Trovato Delle Bellissime Immagini Di Riferimento Ho Modellato La Testa In Con Una Mesh Low Poly E L'ho Rifinita Con Lo Sculpt Multi Resolution Per La Cliniera Ho Utilizzato Delle Curve Bezier Con L'opzione Tepier Bevel Per Dare La Forma E Il Profilo Di Una Ciocca Diciamo Scolpita Poi Con La Santa Pazienza Ho Adornato La Testa Di Leone Di Tutte Queste Ciocche Entrando Poi Di Volta In Volta In Edit Mode Per Cambiare La Curvatura E La Forma Della Ciocca Stessa Tutte Le Curve Le Ho Convertite In Mesh E Ho Passato Il File Ai Signori Della Stampa Che Però Me L'hanno Ritornato Indietro Perché In Questa Maniera Non Poteva Effettivamente Essere Stampato In Quanto C'erano Troppe Compenetrazioni Di Mesh Tra Tra Una Ciocca E L'altra Con Il Sistema Bullin Quindi Ho Poi Ripulito Mano Mano Tutte Le Ciocche Una Per Una E Finalmente Siamo Passati Alla Stampa La Stampa 3D Con Stampanti Di Tipo Delta Un Filamento Plastico A Fusione A Fusione Grazie Il Pla Come Vediamo Le Stampe Sono State Fatte A Pezzi Un Po Per Erano Sopradimensionate Nel Senso Che Gli Elementi Erano Anche Abbastanza Grandi Un Po Per Facilitare Proprio La Stampa E Anche Contenere Contenere I Costi Dopodiché Sono State Assemblate Incollate E Rifinite Il Giglio Con le Foglie D'accanto A Testa Di Leone Una Volta Ottenuti Tutti i pezzi Quindi Con vari Materiali Con Stirolo Gesso E Plastica Ho Assemblato Tutti Insieme Tramite Incollaggio Con Una Tecnica Di Scenografia Ho Irrobustito Tutto Il Pezzo Poi L'ho Scenografato Scolpito Dipinto Attraverso Cere Colori Terre E Via Dicendo Tutti I Metodi Abbastanza Tradizionali Dopodiché Si Proveduti Al Montaggio Di Questo Elemento Presso La Sede Deputata Alla Ottocentesca Villa Fabricotti Presso Il Parco Della Padula Per Questa Mostra Permanente Sul Genio Di Michelangelo A Carrara Grazie 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 Ricollegandomi alle parole di Fiorentino Sarro Sì effettivamente ci sono poche donne in generale Ma quelle che ci sono Quelle che ci sono Non scherziamo Grazie 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 a tutti.